Maria Galvica Revisore Revisore Sono una biologa molecolare. Mi occupavo di estrazione di DNA e pensavo che fosse quello che volevo fare. In realtà a volte i nostri percorsi ci portano su altre strade, ma la vita ci guida sempre. Oggi sono un'imprenditrice, ho un'azienda di produzione di cosmetici qua ad Empoli e produciamo cosmetici contoterzi. La cosa più bella di tutto questo percorso, da quando è iniziato, sono state le persone che ho incontrato nel mio cammino, che mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi. Perché anche se è vero che l'imprenditore ha sempre la responsabilità delle scelte e la responsabilità dell'azienda, nessun traguardo può essere mai raggiunto se non insieme. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che creda in noi stessi, perché l'essere umano è molto fragile e spesso anche il più forte può vacillare. Ma ecco che arriva quel tocco, quel gesto, quella parola. E tutto questo ci permette di ritrovare il coraggio e la forza di diventare quello che eravamo destinati ad essere. Io stesso sono frutta di persone che hanno creduto in me, di persone che mi hanno presentato, introdotto nel mondo della cosmetica, che oggi è diventato non soltanto il mio lavoro, ma anche parte integrante della mia vita. Quindi io di riflesso scelgo di credere. Credo nei miei collaboratori, credo nei miei progetti, credo negli altri, con la voglia di sovvertire gli schemi tradizionali del fare impresa. Perché a volte modificare le regole del gioco è qualcosa di positivo. Non è stato semplice costruire un'azienda dal niente. Un'azienda che nasce e cresce è un sistema dinamico. È un sistema in continuo movimento che in qualche maniera necessita di tanti cambiamenti. Nuovi macchinari, nuovi collaboratori da formare, nuovi spazi da gestire. Ma quello che ho imparato in tutto questo tempo è che ciò che dai torna sempre indietro. Per questo nella mia azienda ho cercato di costruire qualcosa di diverso. Cerco al massimo di valorizzare i miei collaboratori, di andare a carpire quel talento che ognuno di loro ha e di trovare quella luce che può essere pronta a far brillare, ma spesso non sanno neanche di avere dentro di loro. Questo mi ha permesso di costruire un microcosmo, un ambiente in cui l'essere umano è al centro, perché penso che la vita sia un soffio e non ci possiamo permettere di stare in un ambiente in cui non si sta bene. Dare fiducia e credere. Di questo abbiamo bisogno. Semplici regole che portano sempre a grandi risultati. La prima ispezione che abbiamo avuto da un ente molto importante è andata veramente molto bene, sopra ogni aspettativa. Una cosa molto particolare che è accaduta mentre firmavo il verbale era il campo note. Nel campo note c'era scritto azienda che valorizza le competenze, clima aziendale molto favorevole e spiccato spirito di gruppo. La direzione favorisce attività con benefiche ricadute sul tessuto sociale. Per me è stato emozionante vedere che qualcuno dall'altra parte metteva nero su bianco quello che era il mio desiderio, quello che avrei voluto fare. Abbiamo capito che attraverso il nostro lavoro potevamo fare altro. Abbiamo capito che le nostre competenze potevano essere messe a disposizione della comunità. Per questo motivo è nata una linea di cosmetica oncologica. Adesso stiamo studiando una linea per bambini affetti da etiosi. Nel momento della pandemia abbiamo interrotto le nostre lavorazioni per produrre solo gel igienizzante. Perché vi sto dicendo questo? Perché ci viene sempre data l'opportunità di scegliere la propria parte. Noi tutti possiamo scegliere di contribuire a quello che è il benessere di tutti. Solo se capiamo che siamo una rete in cui le maglie che si collegano, che si uniscono, sono le nostre vite, allora possiamo davvero fare la differenza. Allora possiamo davvero essere la differenza. Uno dei primi giorni di lavoro di una tirocinante mi fermai a parlare con lei per chiedere come stavi andando e dopo avermi risposto lei mi chiese «Sai Stefania, che cosa vorrei tanto?» «Una bicicletta». Io rimasi molto colpita da questa richiesta, molto molto colpita e quindi molto velocemente trovammo questa bicicletta. I ragazzi dell'azienda la ripararono e le ragazze dell'azienda nella loro pausa a pranzo le insegnarono ad andare in bicicletta. Questa bicicletta per lei ha significato tantissimo. Ha significato la capacità di muoversi, ha significato l'indipendenza e quindi adesso ne ha una nuova, ha una bellissima e semplice bicicletta rossa che le ha regalato semplicemente qualcosa a cui noi non pensiamo spesso, la libertà di muoversi. Per progredire dobbiamo costruire e per costruire abbiamo bisogno di tante persone che condividano con noi non solo le loro menti ma anche i loro cuori. sono le scelte che ognuno di noi compie ogni giorno che cambiano il corso degli eventi. Tutti noi siamo abituati a combattere ma non tutti siamo abituati a sostenere il senso di solitudine che a volte ne deriva. Proprio per questo allora abbiamo bisogno di quel qualcuno che ci stia vicino e che cammini insieme a noi. Ogni mattina quando arrivo al lavoro trovo una sorpresa meravigliosa un piccolo vaso con dei fiorellini azzurri all'interno. Non smetterò mai di commuovermi perché è un grandissimo gesto d'amore. Io penso che è questo di cui tutti noi abbiamo bisogno gentilezza comprensione cura. penso che se queste attitudini vengono messe in pratica nel quotidiano sicuramente il mondo non lo possiamo cambiare ma lo possiamo rendere sicuramente migliore. Penso anche che niente accada per caso. Jung le chiamava le sincronicità lei le chiama le dioincidenze e forse c'è un perché se dopo venti anni le nostre strade si sono riunite si chiama zia Caterina è una persona molto speciale sali prima te che questo è peso va eccoci siamo proprio pronti Caparrini sei cambiata tutta? tutta perfetto è importante vedete cosa succede quando si sale su un taxi può succedere tutto è vero? ti sei cambiata sei tutta seria emozionata e ora ti è venuto anche tutto il friccio e non mi stanno più i capelli perché 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 l'emozione capito? sì l'emozione abbiamo assistito a una serie di emozioni tutti i giorni dalla palla a tutta la io oblata benedettina fatto voto di castità proprio dopo tutta quella cosa sulla sessualità dovevo venire l'era chiaro perché così il friccio e mi riprendeva eh sì eh sì che cos'è quindi la Caparrini e la Caterina che cosa sono come mai slice in door slice in door l'ha preso un taxi vent'anni fa se ne è ricordata dopo vent'anni l'aveva preso però ogni anno ai suoi tempi insomma però l'ha preso quando poi era maturato il tempo bisogno la necessità il momento giusto lei ha voluto restituire appunto perché la sua azienda in questo momento da imprenditore illuminato ha bisogno anche di illuminare chi illumina illumina quelli che sono in buio è evidente cioè insomma mi sembra abbastanza chiaro no? la situazione è grave anche se adesso sono un crossing qualcosa dressing crossing non lo sapevo però lo sono da tanti anni perché mi sono acconciata così da tanti anni la mia mamma la mi dice o quanto tu ci metti a vestirti ancora non l'ha capito abbiamo scritto anche un libro un capitolo intero sulla vestizione come caspita fai a uscire di casa con tutte le tue paure ti trema la voce sei insicuro sei fragile non sai esattamente perché sei diverso dagli altri ma lo sei è evidente le si sono sposate tutte anche dopo il lutto Stefano morì vent'anni fa morì di cancro io ho vissuto il suo calvario e non potevo rimanere esattamente la stessa non potevo perché nessuno rimane lo stesso dopo che ha scoperto la straordinarietà di essere vivo cioè io ero viva e in più lui mi lasciava la sua vita questo è successo capito Caparri è bellissimo lui stava morendo e felice felice perché era innamorato lascia a Caterina la sua esistenza e poi un taxi un taxi che dice vabbè ora qui c'è tutti i manager vero ne vedo un monte di manager scusate cosa sarà mai lasciare un taxi per lui era il più bel lavoro del mondo quindi cosa ha lasciato Stefano a Caterina Stefano a Caterina ha lasciato la motivazione quello Stefano là mi piace parecchio quello vestito tutto un po' chic chic perché mi sei piaciuto da lontano e ricordo che primo vabbè ti chiami Stefano quindi è ovvio mi piace mi piace perché la sua il coraggio di stare dentro quello che sentiva io dovevo solo rimanere dentro quello che Stefano aveva sentito cioè che potevo amare attraverso la sua vita quello che mi aveva lasciato ha insegnato respiro perché non è una cosa semplice Caparini amare oggi di tutto abbiamo parlato fuori che di questa necessità di essere innamorati la motivazione fondamentale che spinge le persone alla creatività al cambiamento è l'innamoramento essere innamorati quindi principalmente cos'è che ci rende speciali io e la Caparini che io non capisco nulla di quello che è fare azienda e avevo bisogno di un imprenditore illuminato che mi dicesse te li do io profumini per andare a trovare una persona malata o che mi faccio io dei profumini che te ne fai te ne fai quando non sai cosa dire perché non è guarita da una volta precedente quando le cose vanno in un determinato senso quando per uscire non si può andare a fare un giro in taxi quando i dottori non vengono più a casa perché è inutile dirti cosa sta succedendo lo stai capendo da te ecco lì che arriva la Caparini Caparini ale ale viene con un profumino e dice ti faccio un massaggio vengo io e ti accompagno io sarò per sempre grata alla Caparini infatti mi sono fatta anche tutto il TEDx l'ho fatta tutte fin dall'inizio senza le prove sono venuta ad ascoltare tutti perché io sono innamorata di te e di come tu ti sei posta verso i miei ragazzi bisognosi in questo caso era Viola Viola come i tuoi capelli questa ragazzina straordinaria alla quale io desideravo dire tante cose ma non potevo usare la parola classica e quindi in questo caso il nostro insieme essere insieme essere creatività insieme essere risposta a un bisogno era esattamente il fatto che fossimo innamorate del dolore dell'altro della difficoltà dell'altra perché da tutto ciò che crea veramente la necessità viene alla risposta la risposta che non c'era la risposta che non ti saresti mai aspettato perché non è testa è cuore io non avrei mai lasciato Viola lei non mi avrebbe mai lasciato sola perché è un'imprenditrice che voleva dare una mano a una persona che non aveva chiaramente tutti gli strumenti perché quando ti rapporti a ragazzi che noi raccontiamo attraverso disegni perché è più facile disegnarli per farli vedere come sono a volte senza capelli a volte troppo magri a volte sono a seggio la rotella a volte amputati amputabili ecco quando questo non è facile da rappresentare così deve venire l'ironia il gioco la leggerezza giusto? giustissimo guardate come ti sei annunciata cioè da imprenditrice illuminata cioè voglio dire ti sei adeguata ecco questa creatività secondo me dà la forza di essere quello che che in quel momento possiamo e dobbiamo essere questo l'idea di darvi un messaggio oggi non so quanti minuti mancano quanti ne mancano? abbiamo quasi finito abbiamo quasi finito allora ragazzi è questo il messaggio è questo non dovete per forza affonciarvi come lei o come me o non dovete giudicare però come ha detto questo ragazzo straordinario sulla sessualità non giudichiamo però troviamo una soluzione per rimanere autentici a noi stessi io mi occupo di persone che muore e le persone quando muoiono vogliono trovare una persona innamorata di fronte a loro che abbia una luce che abbia uno splendore tale da dire io sono felice nonostante quindi il messaggio è portiamo a casa l'autenticità di ciò che ci piace fare essere e siate innamorati e quando siamo innamorati ci si fida Capadini io mi fido di te mi sono fidata di ogni istante che te mi hai proposto per questo io sono qui perché ti voglio bene voglio volerti bene e fidarmi ancora grazie ora si va via ragazzi vi si lascia andare eh Capadini bellissimo grazie a tutti grazie a tutti